A seguito dell'escalation criminale di cui già da qualche tempo la città di Canicati è scenario, il sindaco Ettore Di Ventura ha avanzato al prefetto di Agrigento Nicola Di Omede una formale richiesta di convocazione urgente del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Agrigento. I sempre più frequenti furti nelle abitazioni, gli scippi, gli atti di vandalismo contro beni comunali e scuole pubbliche sono episodi che hanno creato grande preoccupazione per la sicurezza degli abitanti e l'ordine pubblico, scrive Di Ventura al prefetto, ma l'ultimo grave atto delittuoso di domenica scorsa, che ha visto l'uccisione del giovane Marco Vinci, ha portato il sindaco a richiedere con urgenza l'intervento del prefetto per avviare un'attività sinergica che coinvolga tutte le istituzioni interessate. Il nostro territorio ha bisogno che tutte le forze istituzionali concorrano a garantire il ripristino della legalità individuando le procedure idonee a rassicurare i nostri cittadini, scrive ancora Di Ventura. Quanto assicurato finora dagli innegabili sforzi delle forze dell'ordine testimonia che la strada della cooperazione istituzionale è la soluzione adeguata e vincente per il nostro territorio. Tuttavia l'escalation delinquenziale cui stiamo assistendo impone di avviare con urgenza quelle azioni atte a colpire il crimine in maniera più ferma e decisa. Mi preme assicurare che come sindaco di Canicattì sarò in prima fila in tutte quelle attività che verranno ritenute utili e finalizzate al contrasto della criminalità e al monitoraggio del territorio. È un impegno, conclude il sindaco di Canicattì, che devo ai miei concittadini e che intendo portare avanti.